La cena solidale in piazza San Vittore è ormai dal 2015 che la organizziamo alla vigilia del nostro patrono San Vittore. E quest'anno l'emergenza sanitaria non ci permette di organizzarla, ma noi non vogliamo perdere questa bella abitudine. E allora abbiamo detto, manteniamo vivo il gruppo delle più di 50 associazioni di Varese Solidale e organizziamo non più aggiungi un pasto a tavola, ma aggiungi un dolce alla tua tavola. Così come in ogni tavola, in ognuna delle nostre tavole non manca il pane, allora in ognuna delle nostre tavole non manchi anche la torta di pane di Sant'Antonio. Quella che viene prodotta presso la mensa della Brunella, una torta buonissima fatta con il pane invenduto, destinato ad essere buttato via, che torna invece ad essere cibo di ottima qualità sulle nostre tavole. Come si fa per avere questa torta? La si può prenotare e ricevere a casa propria. Prenota la tua torta, la porteremo a casa tua. La torta pane di Sant'Antonio è un dolce che rappresenta il cuore di noi varesini, che è un cuore profondamente solidale, che non conosce differenze fra credenti, non credenti, appartenenti a una cultura, a un altro, a una parte politica o a un'altra. Il cuore di noi varesini è solidale ed è aperto all'aiuto agli altri. Aiutaci ad esprimerlo attraverso questo semplice gesto della torta pane di Sant'Antonio. Grazie. Grazie. Grazie.